Con una nota ufficiale, diramata ieri sera, la consigliera Gemma Caprino, eletta nella lista Tozzi Sindaco, ha comunicato il passaggio all'opposizione dell'amministrazione francese. Inoltre, sempre in un ammissivo ufficiale, il Vice Sindaco Cottozzi, gli assessori Francesca Napoli, Michele Gioia e Laura Torillo, rassegnano le dimissioni irrevocabili dall'incarico assessoriale, loro conferito. Adesso si apre una delicata fase politica per la maggioranza della Sindaca Cecilia Francese. Grazie a tutti.